La vicenda delle fideiustioni particolari, chiamiamole così, del Comune di Pisa arriva alla Corte dei Conti, era stata sollevata poco più di un anno fa da un gruppo in Consiglio Comunale, il gruppo di Una Città in Comune, Rifondazione Comunista, Francesco Auletta. Qual è la vostra lettura ora? Il tempo è stato galantuomo. Un anno fa noi abbiamo sollevato uno scandalo a 16 milioni di euro per cui i maggiori imprenditori di questa città, dal gruppo Bulgarella a Bottai per la Bocca d'Arna e la Sviluppo Navicelli, avevano consegnato fideiustioni false al Comune in cambio di permessi a costruire senza che l'amministrazione comunale avesse fatto mai nessun controllo. Sulla base di queste inchieste che noi abbiamo condotto abbiamo un anno fa presentato un esposto alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti. Siamo stati definiti dal sindaco degli sciacalli per questa che è un'azione di trasparenza e di legalità, ma il tempo come dicevamo è galantuomo. Il 23 di novembre i Revisori dei Conti hanno presentato una relazione alla Corte dei Conti mettendo in evidenza tutte le carenze e le responsabilità dell'amministrazione, proprio su quei casi che noi avevamo messo in evidenza. Siamo di fronte a un danno evidente nei confronti del Comune Pisa, a parte la Sviluppo Navicelli per 3 milioni di euro, proprio perché l'amministratore delegato allora di quella società, oggi in fallimento, aveva presentato delle fideiustioni farlocche. Ugualmente per la Bocca d'Arna, fideiustioni false che non sono state mai ripresentate, idem per il gruppo Bulgarella, fideiustioni false che non sono state ripresentate. Noi crediamo che ci siano grandissime responsabilità politiche da parte di chi oggi amministra questa città su un sistema vero e proprio di fideiustioni che ha consentito in tutti questi anni di dare permessi a costruire senza alcun controllo. Noi riteniamo che ci sia una battaglia di legalità e di trasparenza quella che conduciamo e porremo immediatamente all'attenzione del Consiglio Comunale e di tutte le sue articolazioni questa relazione che ad oggi non è stata consegnata ai consiglieri. Grazie. La Stella Maris, Roberto Cutaier, intanto una struttura che si era resa necessaria per voi, perché? Beh perché ormai il vecchio ospedale erano circa più di 50 anni che stavamo appunto a Calambrone, ma soprattutto perché i bambini sempre più gravi e sempre più precocemente ammalati, traumatizzati, necessitano una vicinanza di un policlinico per tutta l'assistenza. Quindi questo ci considerà di aumentare l'eccellenza, l'alta specialità del nostro intervento perché l'area di Cisanello è molto vicina appunto al policlinico e davanti al policlinico. È una struttura molto moderna, una struttura che vista dall'alto assomiglia a un tau, vista dal basso assomiglia come a una nave, come a una serie diciamo di pannellature bianche che potranno essere colorate o su cui addirittura potranno essere anche proiettati dei film e dei cartoni animali. È una struttura quindi a misura di bambino, una città della misura di bambino. Forse non tutti sanno che la fondazione Stella Maris è stata fortemente voluta dalla diocesi di San Mignato che appunto l'ha fondata ormai qualche anno fa Andrea Migliavacca e Vesco di San Mignato. Lei insomma si è insediato circa un anno fa, ha avuto modo di conoscere appunto la struttura, cosa pensa ora di questo progetto? Sono contento oggi di partecipare a questa presentazione nella quale appunto si dà modo anzitutto di riconoscere il cammino già fatto da Stella Maris. Come veniva ricordato c'è un legame forte con la diocesi di San Mignato che anche attraverso il Vescovo nomina il Consiglio di Amministrazione. E ho potuto in questo quasi anno di presenza di San Mignato apprezzare le tante iniziative, realtà, proposte che Stella Maris fa in modo molto qualificato, attento alla persona e con l'attenzione alla ricerca. Sindaco Filippeschi come si inserisce questo progetto nel piano di ristrutturazione, di recupero anche di tutta quell'area cittadina? Beh, intanto si inserisce in un grande parco verde che sarà costruito insieme alla costruzione del nuovo ospedale della Stella Maris e poi si inserisce a poche centinaia di metri in un progetto di completamento del nuovo ospedale e di prossimità di tutte le istituzioni specialistiche di alta specializzazione e di formazione di cui per fortuna la Toscana è ricca e che hanno nella nostra città una sede privilegiata. Lorenzo Ragaglia, capogruppo del PD in Consiglio Comunale a Cascina, primi mesi di lavoro per l'amministrazione Ceccardi, qual è il vostro giudizio? Il giudizio è purtroppo negativo, ma è un giudizio negativo che non si basa insomma solo sulle politiche che ovviamente sono per natura differenti, ma proprio sull'operato dell'amministrazione che a nostro avviso, lungi dal proporre nuove idee, nuovi programmi e un nuovo slancio per Cascina è ferma sostanzialmente in campagna elettorale per demolire solamente quello che è stato fatto dai precedenti amministratori da tutti i punti di vista. Un riferimento alla situazione del teatro di Cascina, al centro di un'analisi dettagliata? Sì, il teatro di Cascina è al centro di questa polemica che a nostro avviso ha raggiunto anche toni eccessivi da parte dei nuovi amministratori. Il teatro è una risorsa per Cascina, questo deve essere ben fermo, è una risorsa che prescinde da chi governa quindi a nostro avviso il lavoro demolitorio e anche che mira quasi a mettere in cattiva luce non solo la politica della vecchia amministrazione ma anche il teatro stesso è dannoso per la città del teatro in quanto attraverso questa consulenza che l'amministrazione ha commissionato a una società esterna si cerca di mettere in luce anche un debito che a nostro avviso invece non sta in essere insomma perché la vecchia amministrazione e la precedente città del teatro nonostante le oggettive difficoltà economiche era riuscito a mantenere il teatro come una risorsa molto importante per il nostro territorio. Consiglio comunale aperto a Pisa e seduta solenne a Palazzo Reale per celebrare la festa della Toscana c'era il presidente del Consiglio regionale Gianni e tanti ragazzi delle scuole che hanno contribuito alla riflessione proposta un servizio speciale con tante interviste andrà in onda nei prossimi giorni intanto ascoltiamo il presidente del Consiglio comunale, quello del Consiglio regionale Proprio in questo palazzo 230 anni fa furono emanate le leggi di riforma del codice penale che abolirono la pena di morte e la tortura in Toscana fu il primo Stato al mondo a prendere un provvedimento di quel tipo quindi noi nella giornata di oggi vogliamo ricordare la figura di Pietro Leopoldo lo faremo partendo anche da una rivocazione storica però la giornata di oggi vuole essere anche un rendere attuale quel messaggio non è soltanto un avvenimento storico che noi ricordiamo ma vogliamo ricordare quegli avvenimenti di 230 anni fa come una tappa una tappa di un percorso ancora lungo per valorizzare la dignità di ogni persona la pena di morte, la tortura annullano quella che è la dignità umana noi crediamo invece e vogliamo affermare qui a Pisa oggi che ogni uomo deve avere la sua dignità al di là delle sue condizioni, al di là della sua razza quindi noi crediamo che quella sia stata una tappa di un percorso di recupero della dignità di ogni uomo si tratta di una ricorrenza storica fu la prima regione ispirata dall'illuminismo con un gran duca particolarmente portato alla stagione riformista appunto Pietro Leopoldo ma anche un messaggio oggi perché è indubbio che solo 104 stati hanno abolito la pena di morte su circa 200 nazioni che ci sono nel mondo è vero, metà poi degli altri quasi 100 stati non la praticano più però fra chi la pratica voi pensate c'è gli Stati Uniti l'Iran, la Cina, l'India 3 miliardi di persone vivono in stati in cui la pena massima è la pena di morte e questo onestamente riteniamo non sia giusto lo ha fatto un appello il presidente Mattarella pochi mesi fa lo facciamo noi tutti gli anni con la festa della Toscana il 30 novembre la vita umana va rispettata anche se una persona si è macchiata del più grosso crimine magari col concetto di una riabilitazione che passa da fargli trascorrere tutta la vita in carcere ma con la sua mente che possa capire lo sbaglio che ha fatto anteprima per le mostre tutti in moto il mito della velocità in 100 anni di arte a cura di Daniela Fonti e Filippo Baci di Capaci e Futurismo, velocità e fotografia a cura di Giovanni Lista le mostre sono ospitate a Ponte d'Era nelle due sedi di Palp Palazzo Pretorio e il Museo Piaggio l'inaugurazione prevista il 9 dicembre saranno visitabili fino al 18 aprile 2017 Filippo Baci di Capaci è uno dei curatori di questa mostra come si articola? la mostra si articola fondamentalmente sulla velocità si parte dalla lentezza da ciò che per secoli è stato il mezzo di trasporto che ci ha accompagnato quindi c'è un grande tributo al cavallo le prime due sale di Palazzo Pretorio sono proprio un tributo al cavallo al piccolo battello, al remi a tutto ciò che è stato un mezzo di trasporto per secoli e poi la grande trasformazione del mezzo di trasporto con il motore a iniziare dai treni, dai battelli, dalle macchine dalle motociclette per arrivare agli aerei le sale sono divise una per una per ogni mezzo di trasporto e sono rappresentate con opere di artisti dalla metà dell'Ottocento fino al 1970 Timone Millozzi è il sindaco di Pontedera una mostra che sarà anche inserita all'interno di Palazzo Pretorio un modo per riqualificare questo luogo? sì, assolutamente sì, è un'occasione importante per la città perché ci sono due eventi in contemporanea che permettono da una parte di dare nuova vita al nostro Palazzo Pretorio il Palazzo in Piazza Curtatone un palazzo che ha perso la sua funzione originaria perché era sede distaccata del Tribunale di Pisa una volta venuta meno la funzione si è perso qualcosa di importante per la città un presidio di giustizia ma anche un ritorno in termini di indotto che il Tribunale portava ci siamo messi alla ricerca abbiamo fatto un bando per trovare privati che scommettessero su questa operazione ci siamo riusciti perché inaugureremo nelle prossime ore la riqualificazione del Palazzo Pretorio che significa una struttura che sarà a servizio della città dal punto di vista culturale perché una parte di questa mostra che oggi vediamo qui al Museo Piaggio l'avremo anche all'interno del Palazzo Pretorio e sotto ci sarà una struttura di servizio alla mostra quindi un bar, un ristorante quindi una riqualificazione complessiva che noi ci auguriamo da una parte porti nuovi visitatori in città attraverso anche mostre di rilievo come quella che oggi ospitiamo di rilievo nazionale e internazionale dall'altra sia un punto importante che fa vedere come la città nonostante i tempi di crisi non si sia fermata ma anzi veda nel Palazzo Pretorio un'attività non soltanto che si riqualifica ma un'occasione importante per far sì che il centro si rianimi e la città stessa ne tragga beneficio Abbiamo già parlato nei nostri precedenti servizi del telegiornale del convegno promosso dalla CIA a Calci terza edizione sui temi della sicurezza alimentare della buona alimentazione della consapevolezza alimentare Linda Grilli è intervenuta in questo convegno come giornalista del mensile Il Test si è sempre occupata di tutela dei consumatori e ha anche fatto delle ricerche specifiche delle inchieste sui prodotti destinati ai bambini prodotti alimentari destinati ai bambini insomma nella sua relazione ha messo l'accento su alcuni prodotti che appunto sono stati oggetto della sua indagine quali e come comportarci come consumatori Dunque abbiamo testato diversi prodotti per i bambini molti di questi prodotti alimentari da quello che si evince diciamo dall'inchiesta è che bisogna fare molta, moltissima attenzione a quello che c'è sull'etichetta e con il nostro aiuto i genitori sono in grado di fare una scelta tra un ventaglio di una ventina di prodotti le cui etichette vengono analizzate nelle quali si scopre che non tutto quello che le aziende veicolano in termini di pubblicità poi corrisponde alla realtà dei fatti faccio un esempio banale molti prodotti per esempio ghiaccioli, yogurt le aziende nei loro claim dicono che c'è la frutta in realtà leggendo nelle etichette la frutta ce n'è poca pochissima però bisogna imparare un pochino ad andare un pochino più in là di quello che è appunto la pubblicità perché appunto si rischia di mettere in tavola e far mangiare ai nostri figli dei prodotti che sono ricchi di zuccheri di grassi e poveri invece nei nutrienti che sono in realtà importanti non solo spessissimo ci siamo imbattuti in prodotti per bambini che contengono additivi coloranti, aromi cose che insomma per quanto riguarda la salute dei bambini più piccoli sarebbero comunque da evitare venerdì c'è Pisabario all'arena una partita che era a rischio fino a qualche ora fa sembra che ci sia invece una schiarita soprattutto nella questione di passaggio di quote societarie intervenendo Abodi anche all'interno del nostro Nero Azzurro ha fatto capire che siamo molto vicini Assessore Serfogli a di là del fatto di queste parole di Abodi che ci danno un po' di speranza intanto venerdì se ci gioca l'arena riavrà i 9.000 più o meno posti sono stati fatti lavori importanti quindi 9.500 posti sono garantiti proprio in questi giorni abbiamo finanziato ulteriori 560.000 euro per fare quegli interventi di miglioramento sismico sulla curva nord che consentiranno di poter poi portare l'agibilità a oltre i 10.000 quindi ai 12.000 errotti Cristiano Marcacci neocapo servizio del terreno di Pisa come se ne esce da questa situazione dopo quello che sembra ormai essere quasi un epilogo direi che le cose si sono messe nelle ultime 48 ore molto molto bene dopo l'allarme rosso scattato stanno a quanto sappiamo insomma i consulenti stanno addirittura definendo i dettagli un contratto ci dovrebbe essere già quindi manca solo la firma c'è stata questa grossa sottolineatura da parte del presidente Abodi il quale ha detto che la famiglia Petroni dimostrerà nelle prossime 48 ore con i fatti concreti che la volontà era quella di vendere di cedere la società quindi diciamo mai come stavolta siamo vicini al traguardo Roberto Nusca con la sua società ospite del nostro Nero Azzurro me ne dissi gioca per lo meno è l'ospicio di tutti vogliamo ritornare a parlare di calcio di classifica di tre punti credo proprio che sia al momento perché è una lotta contro il tempo uno stress sicuramente per la piazza per la città per tutti l'impegno messo dal presidente Abodi lo dimostra è troppo importante l'obiettivo è troppo importante bisogna moltare pagina e cominciare a parlare di sport e allora nonostante che non abbiamo certezze noi vi dobbiamo dire che nel nostro palinzesto venerdì sera alle 23.30 saremo in onda per raccontarvi tutto su Pisa Bari perché io voglio pensare positivo e dire tutti all'arena alle 20.30 venerdì perché c'è questa gran bella partita da seguire e possibilmente vincere tutti insieme grazie a tutti